Namaste a tutti, oggi voglio parlarvi di una calcolatrice che è fantastica, almeno io l'ho trovata così, per fare i calcoli astrologici. È un modello della SHARP, sicuramente esistono tanti tipi di calcolatrici, insomma magari che hanno le stesse funzioni, ma questa calcolatrice l'ho proprio ricercata, l'ho proprio trovata in base ad alcune funzioni fantastiche che ci possono servire per quanto riguarda i calcoli che facciamo nell'astrologia vedica, soprattutto i calcoli con i gradi, e vi farò alcuni esempi, e i calcoli anche del modulo che ad esempio usiamo nel sistema di numerologia vedica. Allora, questa calcolatrice è una calcolatrice di marca SHARP del modello, scrivetevelo perché altri modelli non hanno le stesse funzioni, quindi è importante riconoscere il modello giusto. Il modello è ELW506T, questo sarebbe il modello, ed è quella che vedete qua praticamente. Allora, la cosa che ci serve a noi è che abbia la funzione, questa qua, di gradi, questa ci permette di inserire i gradi e di fare i calcoli con i gradi, e come sapete bene, ogni segno sono 30 gradi, e quindi in astrologia vedica ci serve per capire la posizione dei pianeti, la longitudine, la latitudine, quindi tutti questi fattori qua. E poi ha un'altra funzione molto interessante che si accede tramite questo pulsante, ed è questa qua, INT, che sta nel tasto STO, ma la funzione, ve la scrivo anche qua, INT, INT diviso, che significa diviso per intero. Praticamente questa funzione ci fa la funzione modulo che ci serve per il catapaiati varga, quindi per la numerologia vedica. E non solo, ci può servire anche per altri calcoli. Quindi queste due funzioni in particolare dovete assicurarvi che ci siano. Ecco, in questo modello che vi sto dicendo queste due funzioni ci sono, sono presenti. Se invece volete fare ricerca perché avete già una calcolatrice, o volete scegliere un altro modello, un'altra marca, dovete verificare che abbia queste due funzioni che oggi vi descrivo. Perfetto, quindi andiamo a vedere subito delle applicazioni che riguardano questo tipo di calcolatrice. Allora, prima di farlo volevo farvi vedere alcune lezioni, ad esempio se andiamo nel primo modulo, nella lezione 26, parliamo della combustione, quindi la combustione planetaria. Ora noi sappiamo che software come Devaguru ci danno già il focherello che ci dice che c'è una combustione, ad esempio qua abbiamo Buddha, Mercurio, Shukra, Venere che sono combusti e questo ce lo dice Astangata che significa combustione. Però se volessimo calcolarlo noi e vedere se questi pianeti sono combusti, potremmo usare la nostra nuova calcolatrice per farlo. E come facciamo? Allora, per farlo dobbiamo verificare i gradi, vedete qua, se andiamo nella lezione 26, noi abbiamo dei gradi di combustione. Quindi se vogliamo vedere se Mercurio è combusto, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere se Mercurio e il Sole sono nel range di combustione, cioè se Mercurio è nel range di combustione. Allora, vedete qua, il Sole ha 29 gradi e 4 primi e Mercurio ha 26 gradi e 58 primi. Ve lo scrivo qua così che sappiate cosa stiamo facendo. Quindi stiamo guardando la longitudine, scriviamo 29 gradi e 04 minuti o primi e poi qua abbiamo Mercurio, sono nello stesso segno entrambi e Mercurio ha 27 gradi e 58 primi. Quindi cosa andremo a fare? Andremo a sottrarre a 29 gradi i 27 gradi di Mercurio in modo da sapere quanto distano i pianeti l'uno dall'altro. Come facciamo con la calcolatrice? È molto semplice. Allora scriviamo 29 e poi clicchiamo il tasto gradi, questo qua. D, ve lo scrivo qua, cosa c'è scritto? C'è scritto D che vuol dire digrio gradi, M vuol dire minuti e S vuol dire secondi. Quindi c'è questa dicitura in questo tasto qua e questo tasto qua che vedete qua. Perfetto, quindi adesso andiamo a cliccare questo tasto qua e vedete che appare gradi, appare un grado. Perfetto, adesso scriviamo i minuti 04 e ripremiamo questo tasto e vedete appare un altro grado che sta per minuti. Quindi abbiamo scritto questa cifra. Adesso cosa facciamo? Semplicemente sottraiamo proprio come se fosse una normale sottrazione. Qui sottraiamo, appare un meno e di nuovo scriviamo 27 gradi, riclicchiamo questo tasto gradi, 51 primi e clicchiamo di nuovo questo tasto e facciamo uguale. Quindi vedete fra di loro Mercurio e il Sole hanno un grado e 13 primi di distanza, quindi direi che rientra nell'ambito della combustione. Quindi questo Mercurio che sta solo un grado e 13 di distanza del Sole sta proprio nel range di combustione e quindi sarà combusto. Ecco, quindi qua ci siamo. Ecco ora, se vogliamo vedere se Venere è combusto, cosa andiamo a fare? Vedete che Venere sta in un altro segno. Sta in un altro segno Venere. Qui dobbiamo fare una piccola operazione in più per Venere. Quindi Venere è situato a un grado e 33 primi. Quindi cosa dobbiamo fare in questo caso? Dobbiamo vedere quanto manca perché il Sole vada nell'altro segno. Quindi cosa faremo? 30 gradi meno poi 29. E poi ci andremo a sommare i gradi di Venere. Quindi calcoliamo, faremo 30 gradi, 30 gradi meno i gradi del Sole e ci sommeremo i gradi di Venere. Molto semplice. E così otteniamo la distanza tra il Sole e il Venere. Quindi cosa facciamo nella nostra calcolatrice? Allora prima di tutto andiamo a cancellare tutto, ripartiamo da capo. E cosa facciamo? Facciamo 30 gradi, 30 gradi, premiamo il tasto gradi, meno i gradi del Sole e così capiamo quanto manca dal Sole alla fine del segno. Quindi meno 29 gradi e 04 primi. Ora cosa facciamo? Ci sommiamo i gradi di Venere. Quindi facciamo più un grado, ricordatevi sempre di premere i gradi, e 33 primi. Perfetto, abbiamo fatto tutta la nostra equazione. E la possiamo vedere, possiamo anche tornare indietro con le frecce, rivedere se abbiamo messo tutto correttamente, poi scriviamo il tasto uguale. Ecco qua. Quindi noi sappiamo adesso che Venere e il Sole distano 2 gradi e 29 primi, quindi sono molto vicini e quindi questo creerà una combustione. Ovviamente sappiamo che siccome Venere non è retrogrado, non è un'effettiva combustione, però possiamo dire che Venere è all'interno dei gradi di combustione del Sole. E questa è la prima parte. Il primo modo di utilizzare la calcolatrice. Perfetto. Quindi azzeriamo di nuovo la calcolatrice, siamo pronti per fare eventualmente un altro calcolo. Guardate qua. Qua vi ho messo, nel modulo 2 invece, abbiamo una lezione sulla numerologia e anche qua facciamo dei calcoli. E questa calcolatrice ci può essere utile anche per quanto riguarda i calcoli. Vediamo un attimo. Ad esempio, quando utilizziamo il sistema Catapaiadi, Varga, quello che succede è che andiamo a trasformare un nome, che può essere un nome di un'azienda o un nome di un'attività, in numeri. Ok? E dopo aver trasformato i numeri, prendiamo questi numeri e li invertiamo, quindi li facciamo al contrario. Quindi in questo caso Stanza del cuore equivale a 2, 0, 1, 8, 7 e 6. Quindi questo è il risultato. Ora, per ottenere un segno zodiacale, quindi quello che chiamiamo Namarashi, o il segno che ha a che fare col nome, Namarashi, 12, cosa facciamo? Dobbiamo togliere multipli di 12, o l'operazione che viene chiamata modulo 12. Ovvero, voi prendete questo numero, questo numero, lo dividete per 12 e prendete il resto. Quel resto ci dirà il segno. Il resto di una divisione per 12 non è mai maggiore di 12, quindi vuol dire che ci darà un numero tra 1 e 12. Quindi noi ci aspettiamo un numero tra 1 e 12 e quel numero qui varrà a un determinato segno in cui questo particolare nome attiverà quel determinato segno. Quindi come calcolare questa funzione modulo? Cioè come da questo numero fare l'operazione modulo 12? Ecco, con questa calcolatrice è molto semplice perché utilizzeremo la funzione int diviso, a cui accederemo premendo prima di tutto questo tasto 2nf e poi potremo accedere a questa funzione chiamata int diviso. E utilizzarla è molto molto semplice, vi faccio vedere come si usa. Allora, quindi scriviamo prima di tutto questo numero, il numero che abbiamo ricavato dal sistema. Quindi 2 0 1 8 7 6 e invece di premere il normale diviso premiamo 2ndf secondo f e premiamo questo sto perché stiamo usando la funzione che c'è scritta sopra int diviso. Vedete che si crea un simbolo della divisione ma questo è tutto nero, ecco questo è il simbolo giusto. E adesso scriviamo 12 perché vogliamo che questo modulo sia fatto secondo il numero 12. Fatto questo il gioco è fatto, basta premere uguale e otteniamo due numeri. Otteniamo il numero, il numero sopra è il quantitativo di volte che 12 sta a questo numero e questo non ci interessa, a noi interessa il numero sotto. In questo caso il numero sotto è 0 che equivale a 12 in questo sistema perché 0 è prima di 1 ed equivale a 12. Quindi abbiamo 12 quindi questo stanza del cuore equivale al segno del pesci. Vediamo un altro esempio, un altro esempio. Ad esempio possiamo prendere la parola yoga delle stelle. Yoga delle stelle dopo che abbiamo fatto i nostri calcoli abbiamo trasformato le parole in numeri otteniamo questo numero 3 6 3 8 3 1. Perfetto e quindi faremo questo numero modulo 12. Quindi facciamo lo stesso procedimento, azzeriamo tutto, scriviamo questo numero 3 6 3 8 3 1, premiamo la funzione int diviso e appare questo simbolino qua e per cosa facciamo? 12 diviso 12. Uguale, otteniamo il numero sopra che lo scartiamo, non ci interessa, il numero sotto ci dice il segno che in questo caso è il terzo e se contate tre segni il terzo segno è il gemelli. Quindi yoga delle stelle ha a che fare col segno del gemelli, la comunicazione, la conoscenza e così via. Perfetto e questo è un altro modo di utilizzare che possiamo utilizzare ad esempio con questo calcolo nel modulo 2. Ecco nel modulo 3 abbiamo altri calcoli ma ho selezionato quella lezione, la lezione numero 13 dove parliamo di uno, nessuno e centomila e parliamo del bavalagna, il bavalagna che è un ascendente speciale. E tra gli esercizi, per le persone che vogliono studiare un attimino questo tipo di calcoli, avevo preparato come si calcola il bavalagna. Ovviamente il software come ad esempio Devaguru lo calcola automaticamente il bavalagna, quindi insomma potrebbe non servire, però ci sono a volte calcoli che bisogna farseli a mano e a volte se siamo in dubbio su certe cose è buono sapersene calcolare. Quindi adesso vediamo un esempio di come calcolare il bavalagna. Qua abbiamo la carta di Al Pacino, ad esempio questa è la formula. Bavalagna uguale longitudine del sole più orario di nascita meno sorgere del sole per 15 gradi. Quindi per calcolare questo tipo di equazione, questa è un'equazione un po' più complessa giusto per farvi vedere come fare per fare questo calcolo. Allora qua vi ho già messo i dati della carta di Al Pacino, cioè la longitudine del sole sono 12 gradi e 01 primi e 32 ariete. Quindi la longitudine del sole ce l'abbiamo, l'orario di nascita ce l'abbiamo 11 e 02, l'orario del sorgere del sole ce l'abbiamo sulle 5 e 02 e poi abbiamo il numero 15. Quindi vedete le variabili sono 3. In particolare questa variabile è una variabile che bisogna calcolarla in gradi, questa variabile è un'altra variabile da calcolare in gradi, il 15. Mentre l'orario di nascita e il sorgere del sole sono dei tempi, quindi questi non si calcolano in gradi ma dei tempi e questi li vorremmo trasformare in decimali, ad esempio 12 e 02 e le 5 e 02 e vorremmo fare questo ragionamento con i decimali. Perfetto, quindi cosa facciamo? Prima di tutto trasformiamo l'orario e il sorgere del sole in decimali. Come facciamo? Allora per trasformarli in decimali facciamo così, seguiamo la formula, quindi abbiamo Bavalagno uguale a longitudine, longitudine sono 12 gradi, 0,1 e 32, quindi scriviamo 12 gradi, ok 12 gradi, 0,1 primo in 32 secondi, più, dove abbiamo il più e mettiamo due parentesi, due parentesi come dice la formula, orario di nascita, orario di nascita scriviamo le 11 e 02, quindi 11 gradi che sta per ore e 02 secondi, minuti, ok perfetto. meno il sorgere del sole, meno 5 gradi e 02 primi e 33 primi, il bello di questa calcolatrice dice che si può tornare indietro e chiudiamo la prima parentesi, poi moltiplichiamo per 15, chiudiamo la parentesi e abbiamo la nostra formula, riverifichiamola, possiamo tornare indietro e vederla dall'inizio, perfetto. Quindi abbiamo 12, 0,1 e 32, corretto, più, aperte due parentesi, 11 e 02 che è l'orario di nascita, meno 5, 02 e 33 che è il sorgere del sole, per 15, poi chiuso a parentesi e premiamo uguale. E abbiamo 101, 53 e 17, se vedete è corretto, qua Deva Guru ci dà 11 e 53. Perfetto, abbiamo così calcolato il Bavalagna. Questi sono solo degli esempi su come usare questa calcolatrice. Ecco, le due funzioni principali, ricapitolando, sono la prima e la possibilità di questa calcolatrice di lavorare secondo le coordinate, secondo le longitudini, secondo i gradi, minuti e secondi. E questo è fantastico perché noi, ovviamente, quando studiamo l'astrologia vedica, stiamo studiando un cerchio, che è lo zodiaco, di 360 gradi, che è diviso in 12 parti, in 27 parti, le 27 nascita. Ad esempio, se noi volessimo sapere, con questa calcolatrice, quanti gradi sono ogni nascita, noi sappiamo che le nascita sono 27, le 27 costellazioni della Luna, e ci chiediamo quanti gradi sono ogni singola nascita. Andiamo a vedere. Basterebbe fare questa operazione, quindi scriviamo 360 gradi. Ok, 360 gradi. Ogni tanto questo simulatore ci dà la doppia... ma giocandoci un po' poi ci si riesce. La calcolatrice è più precisa, questo è una sorta di simulatore che ho trovato nel sito della Sharp, molto utile perché mi permette di fare questo video senza dover cercare con la telecamera di prendere la mia calcolatrice. Questo è un simulatore. Ecco qua, 360 diviso 27. Diviso 27. Vediamo cosa ci dà. Uguale. 13 gradi, 20 primi. Questa è la grandezza di una nakshatra. E dovete sapere che ogni nakshatra ha 4 pada. Quindi ogni nakshatra delle 27 è divisa in 4 pada. Ecco, quanto è lungo un pada? Ecco, possiamo fare ancora diviso 4. e otteniamo che ogni singolo pada sono 3 gradi e 20 primi. Vedete com'è comodo per fare anche i ragionamenti astrologici. Perfetto. Quindi sono due le funzioni che vogliamo avere. Questa è gradi, minuti e secondi, mentre per altri calcoli astrologici, non solo per la numerologia, ma ci sono altri calcoli in cui questa funzione esce molto utile è la funzione modulo. Questa funzione viene largamente utilizzata nei calcoli astrologici, quindi è molto buono averla nella calcolatrice, è molto comodo averla nella calcolatrice, averla a portata di mano. E per ottenere questa funzione è molto semplice, perché basta semplicemente andare a scrivere il numero che vogliamo fare poi il modulo. Ad esempio, in alcuni calcoli vogliamo ricavare da un numero i pianeti, il pianeta che rappresenta quel numero. Quindi magari otteniamo un numero e da questo numero vogliamo, applicando l'operazione modulo, questa operazione qua, vogliamo fare modulo 9, quindi vedere quale pianeta viene attivato da un particolare numero. E quindi dividiamo per 9, perché 9 sono i pianeti, facciamo uguale, ad esempio la prima parte Q lo scartiamo e abbiamo R4. Quindi secondo la numerologia poi andiamo a verificare a quale pianeta corrisponde il numero 4. Se lo facciamo per i segni invece utilizzeremo il numero 12. Se invece volessimo vedere che Nakshatra viene attivata da quel determinato numero, ad esempio possiamo tornare su, questa è la bellezza, possiamo riprendere questo numero 4 5 2 6 5, 4 5 2 6 5, applichiamo l'operazione del modulo, scriviamo 27 e qua abbiamo la tredicesima Nakshatra, che è Asta Nakshatra, quindi questo numero attiva la Asta Nakshatra, seguendo lo stesso ragionamento. Tutto questo lo possiamo fare agilmente, semplicemente con questa operazione di modulo. Quindi queste sono le due operazioni che io reputo molto efficaci per lo studio dell'astrologia, sono molto utili. Purtroppo non tutte le calcolatrici hanno queste due funzioni, molte calcolatrici hanno la funzione dei gradi, ma molte invece mancano della funzione modulo ad esempio. Quindi questo modello che vi consiglio, in qualche modo, ELW506T, possiede entrambe le funzioni, quindi se comprate questo modello siete sicuri di trovarle. Se invece pensate di comprare un altro modello, ce l'avete già in casa e volete verificare, accertatevi che ci siano queste due funzionalità. Per oggi è tutto, buon calcolo astrologico con la nuova calcolatrice. Namaste.